Mattias, oggi uno dei principali quotidiani sportivi italiani ti ha posto come uno dei migliori difensori del torneo. Qual è il tuo segreto visto che lo scorso campionato avevi finito proprio alla grande? Intanto è una cosa che mi fa molto piacere. Il mio segreto non so se è un segreto. So che mi alleno sempre al massimo e che cerco sempre di migliorare. Aiuta sicuramente il fatto che la squadra sta andando molto bene e dobbiamo proseguire su questo cammino. Altri rendimenti di Silvestre, altri rendimenti della squadra. Lo dicevi proprio tu. Qual è in questo momento la forza del Palermo? Sembra un Palermo completamente diverso rispetto a quello che un mese fa si apprestava ad iniziare il campionato. Credo che è stato molto importante l'entusiasmo della squadra che ha dimostrato in queste ultime partite. il mister ci ha dato sicuramente una carica in più dal punto di vista dell'entusiasmo, della motivazione. Credo che la squadra sta rispondendo molto bene in campo però è solo un buon inizio e ancora c'è tanta strada davanti e bisogna migliorare ancora e continuare così. Sulla strada le trasferte con Milan e Roma, due impegni molto difficili. Possiamo considerare i veri esami di maturità per il Palermo? Sicuramente saranno esami di maturità. Abbiamo in più la sosta per migliorare, per pulire qualche difetto. Sicuramente saranno partite molto difficili e molto importanti che daranno sicuramente una risposta per che cosa è pronto questo Palermo. Due partite senza gol subiti, quelli contro la Lazio e contro il Siena. L'affiatamento con Migliaccio migliora, quindi le note liete arrivano anche dalla difesa, per il reparto che fino a qualche tempo fa era nell'occhio del ciclone. Sì, sì, è una cosa molto importante per noi, ma non soltanto per la difesa. La squadra quando si difende, si difende in undici, quindi è un complimento per tutta la squadra e anche per gli natatori. Dobbiamo continuare su questa strada e cercare di migliorare ancora, perché ancora la strada è lunga.